Allora, facciamo un ringraziamento ai cavalieri che oggi ci hanno onorato della loro presenza qua a Melibucca, come dicevo prima, bentornati nella commenta di Melibucca e grazie per quello che ci ho dato stasera. Grazie a voi. Viva! Viva! Viva San Giovanni! Viva! Viva San Giovanni! Viva! Avanti, avanti! Vediamo avanti da dietro, velocemente. Vediamo avanti da dietro, velocemente. Vediamo avanti da dietro. Non c'è il tavolo, la vieta avanti, per paura, avanti! Avanti, avanti! Dai, un bravo! Dai! Cammira, vai avanti! A poca! Ci siamo? Oh, oh! C'è un bravo! C'è un bravo! Aditi, ring禁み! Son c'anni bellus itis, belluti turugaviti la pantera a chi portate lo vostro Signore con pare e frati. Oggi a chi bello vado e ti vesti sreparato, adoramolo tutti i lunghi, che è lo nostro clove e tuvi. E' bello vostro nuovo protettore, son Gian Battista, sembra cui vengi adorare, casiti, fonsiti, bellezza. Son Gianni bellusiti, bello titolo, capiti, la bandera a chi portate lo vostro Signore con pare e frati. Son Gianni... Son Gianni... Sì, è bestia, è pulcinella, è cristiana, tutto rispetto che si rispetto. E ogni anno di Sant'Antonio vende l'Arma 1, son Gianni... Mentre inoltre ha un'altra istituzione, non si fa proprio un'altra istituzione, ma è un'altra istituzione. Svilmente non è inoltre inoltre, non mi sono inoltre, ma è un'altra situazione, E quindi, io devo riguardarla con il punto? Oggi ha un'altra situazione, è un'altra situazione. Ma è un'altra situazione. Buona vista, a tutti i nostri amici di un altro intervento. L'originologale è un'altra situazione. Grazie. 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 Siamo noi. Spostatevi un momento, posto. Grazie a te, prego! Potete più dietro, portate il dietro, portate!